Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Assassin's Creed Unity e riprendiamo con le missioni Q-Club Allora, devo salire di piano, dove cacchio stanno le scale qua? A parte che non ho capito perché si sono insospediti, non so chi Ok, dobbiamo salire di piano perché dobbiamo fare ancora due missioncine Q-Club Allora, vediamo un po', una era tipo sui tetti, se non ricordo male, mi sembra di averlo visto prima di iniziare a giocare E poi ce n'è un'altra, ma intanto facciamoci questa che appare qui e poi ci facciamo quell'altra Allora, eccola qua, il cibo sul tetto che scotta, ferma gli accaparratori sui tetti di Parigi Vediamo un po', in un ultimo disperato tentativo di spostare il cibo nei suoi magazzini Fullo sta trasportando casse di farina sui tetti di Parigi, vicino all'Hotel de Ville Intercetta ed elimina i suoi uomini Il consiglio Uccidi i tirapiedi di Fullo Che praticamente, non è che mi ha rotto le scatole di più Ah, dopo dobbiamo fare in mano agli accaparratori Quindi questa è tutta una missione legata al cibo E di come so, tipo tutte con una trama Uh, quanti! Questa mi piace, questa mi piace Spero che dopo ci sia l'incontro finale con Fallu La cosa, sinceramente, non mi dispiacerebbe Allora, andiamo a far fuori gli uomini Gli scagnozzi di Fullo Che praticamente dovrebbero stare sui tetti Uh, attenzione, uccide il messaggero senza farti individuare Anzi, sono due e ce li smentriamo subito Uh, muori Ma che vuoi fa? Ok, andiamo Via, via, via Corriamo, corriamo Che la gente sia agitata Sia un po' preoccupata Stanno tutti su, eh Più che altro stanno belli distantucci dalla nostra missione Spero che non stanno dentro a sto cacchio di palazzo Perché Sennò sarebbe veramente rugnoso No, ma è abbastanza ancora distante 300 metri circa, quindi Non ho fatto potenziamenti comunque nel periodo non collegato Però sono andato a fare il depredamento di tutti quegli uomini che avevamo ucciso nello scorso video Ho trovato altre belle cosettine molto interessanti Sono sempre comode e più che altro ho rifornito un po' le lame fantasma ho trovato Che non fanno mai male Una cosa che mi manca come potenziamento che sinceramente mi serve è lo scassinamento l'ultimo livello Cioè il livello più avanzato perché ho visto che alcune missioncine Se non ho quel coso Sono rognose Sono rognose, muori Ok Via, 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 via Oh, che è tutta sta gente? Perché posso entra? Scusate, scusate Non lo faccio più, non lo faccio più Non lo faccio più, non lo faccio più Via, 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 via Allora Stanno di... Oh, che cacchio Ah, stanno qua dentro addirittura Ma se entro Se scavalco Vediamo un po' se riesco a arrivare fino a su Vediamo un po' Dove stanno? Stanno... Ah, uno ha un livello Uno ha un altro Vediamo un po' qua dentro che c'è sta Punti sincronizzazione da spendere Vabbè, quello non ci interessa Però sinceramente è più avanti 109, 107 Qua è chiuso È chiuso Andiamo da qua Aspetta, aspetta Aspetta Io direi di continuare a salire, ragazzi Che mi sembra strano che stanno qua Vai Sali, 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 sali Che sembrerebbe il palazzo questo? No 112 30 Quell'altro andò sta? Mi manca un quarto punto Scendi, 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 scendi Arnò, scendi, arnò, scendi, arnò Scendi, scendi, scendi Vai, 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 vai Vai giù, vai giù Ok Allora, proviamo un po' 86 sta là davanti Mi pareva strano che fosse quello come parla Qua non scavalca, sì Ok Allora, facciamoci questo che è a 60 Che è più vicino Ah, eccoli qua, siamo arrivati Sono proprio circonsegnati con una zona verde Levate un po' Oh, parco cane Che sta da fa' qua dentro E non riesca a passare Perfetto, andiamo Sta sopra, sta sopra Ancora più sopra Ancora più sopra Eccolo Sta qui E un po' Si, entra Entra, 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 entra E... Muori E uno Perfetto Molto bene Molto veloce Indolore ragazzi Molto indolore Perfetto Ora Direi di salire Dove sta il prossimo? Eccolo Ah no Eccolo E' questo Questo Vai 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 Perché me lo segnava questo? Due Via Via Poi Fatemi vedere Questo muore all'istante Perfetto Assassino In volo Vai Vai Arno Vai Arno Vai Arno Noi gli diamo tempo di girarsi Perfetto E andiamo di qua Guardate che bel giretto Con tutte queste cose qui Vieni 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 Muori Allora Chi ce sta qua? Fatemi vedere un attimo Aspettate che si ricarica L'occhio di L'occhio dell'aquila Ehm Qua non vedo niente Ce ne sta uno L'ha 52 E me ne manca sempre un terzo Possibile sta qua? Vai 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 Mappa qua Qua è molto più grande Lo Lo spazio Eccolo Eccolo Via Via L'ho visto L'ho visto Sali Arno Che l'ho visto Fammocelo un volo Fammocelo un volo Fammocelo un volo Un volo Tre Mi manca l'ultimo Trovato Sta lì sotto Trovato Sta lì sotto Anzi sta dentro a quella casetta Sta dentro a quella casetta E non mi scapperà Non mi scapperai ragazzo Non mi scapperà Su Su Perfetto Perfetto Scendi 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 Ok No Ecco te Vieni qua Vieni 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 Muori 4 di 4 Eppure questo muore E adesso diamoci A gambe Levate Arno Diamoci a gambe Levate Su Su No 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 Mi stai a far prendere un colpo Scendi 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 Che questa è una zonaccia Via 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 Adesso arciamo i tacchi Perfetto La catena alimentare Completata No Aspetta La catena alimentare Che era missione Ah no Ok Deve usci Che cacchio Mi stava a prendere un colpo Infatti Non mi sembrava i tetti Dicevo Ok Completata adesso Quella era un'altra missione Il cibo sul tetto Che scotta Oh 800 Non male ragazzi Non male Spero quindi che il video Sia stato di vostro gradimento E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale